Protocollata nei giorni scorsi presso la presidenza dell'Aggiunta regionale della Basilicata la richiesta di convocare con urgenza un tavolo sull'avvio dei lavori del nuovo ospedale di località Castagnaretto di Lago Negro, a firmare la richiesta missiva agli esponenti dei comitati pro-ospedale Unico per Acuti, decisione riportata su di un foglio a margine dell'Assemblea pubblica di metà dicembre, ospitata dalla Sala Consiliare del Comune Lucano, un summit partecipato dai cittadini del Lagone Grese, dagli amministratori dei comuni del comprensorio e dagli stessi gruppi e movimenti, ovviamente tema dell'incontro, la grave situazione di stallo dei lavori. La storia è questa, la Basilicata indica alla Solli termini per l'inizio dei lavori, termine disatteso e dirrupsi ad opera con l'ufficio legale per la risoluzione contrattuale, in questo modo si dovrebbero riprendere le procedure per l'affidamento della gara, dunque un'ulteriore perdita di tempo, una via che non piace per niente a quelli del Comitato, spiegano da Lago Negro. Si chiede pertanto la mediazione perché l'opera è cantierabile e non si può riavviare per numerosi rischi la macchina burocratica. In pratica il problema dovrebbe essere di natura economica per la Sol, la società ospedaliera lucana principale contraente della società mista concessionaria della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e della gestione in affitto per un periodo di 25 anni, il tutto per la cifra di circa 30 milioni di euro, ma i costi con il tempo lievitano e aumentano, si arriva a numeri come 20 milioni e oltre di euro, da cui la situazione d'emergenza. Di fronte a questa impostazione i cittadini del Lago Negrese dicono dunque no, è utile convocare un incontro con l'amministrazione di Lago Negro, l'unione dei comuni lagonegresi, allo stesso appuntamento dovrebbero partecipare anche il gruppo dei lavori e gli altri attori legati alla vicenda per raggiungere tutti lo stesso obiettivo, la mediazione console, la consegna dei lavori, il nuovo ospedale di Lago Negro, una struttura baricentrica per il territorio, strategica per l'intera Basilicata, che potrebbe rispondere ai bisogni di salute di tanti cittadini e non solo lucani, se guardiamo alle criticità della vicina Calabria e Campania, ma se ne parla da tanto, troppo tempo e sembra che tutto non vada per il verso giusto. I comitati nella richiesta inviata al governatore Pittella spiegano anche la forza dei loro gruppi e c'è un sostegno popolare testimoniato da oltre 3.000 firme e in caso di inerzia istituzionale fanno sapere, intraprenderanno serie lotte a sostegno della causa.